Molte le persone oggi presenti sull'Argine del Po che si sono concesse una corsa, un giro in bici o una semplice passeggiata. Tra questi vi era chi faceva attività fisica per rimediare i peccati di gola durante questi primi giorni di festività natalizie e chi semplicemente voleva mantenersi allenato. Allenamento. Allenamento ma con il fine non... Leggerimento del peso. Sono tre anni che sono impegnato. Vado di fretta. A dire la verità non l'ho mai smessa. Anche il giorno della pioggia sono venuto ieri in bicicletta, oggi 20 km, buona media, si riprende. Per cui andiamo bene, andiamo bene. Alla mia età bisogna tenersi in forma. Per smaltire un po' questi giorni che abbiamo leggermente esagerato, sì. Hai ripreso oggi o sono andato avanti? Sono andato avanti ma a poco serve, quindi ci proviamo anche oggi nonostante il freddo. Sport oggi ripreso per smaltire i panettoni e i pandori durante le festività? Sì, sì. Ripreso, non l'abbiamo mai smesso. Quanti chilometri hai fatto oggi? Un'attentina. Trenta chilometri? Sì, ma è una roba leggera, dai. Quanto hai mangiato durante questo? Abbastanza, abbastanza. Parecchio. Non diciamo tutto, così meno... Tiriti il dubbio, tiriti il dubbio. Giusto una vettina e quindi si smaltisce di più. Quindi è lui che fa sport. È lui che ci traina, sì. Sì, ma di solito faccio un allenamento infrasettimanale con niente di particolare. Comunque non ho ceduto nell'alimentazione in questo periodo. Ok, quanti chilometri oggi? Trenta. Camminata di piacere. Camminata di piacere? Sì. Nei pranzi natalisti quest'anno hai ceduto oppure tranquillo? Ho un po' ecceduto, però mi sono mantenuto prima a dieta in modo da potermi permettere qualche cosa in più nei pranzi natalisti. Quindi hai lavorato prima? Esatto, ho lavorato prima. Ho perso due chili per un modo da poter riguadagnare nei pranzi natalizi. Ho usato questa tecnica. Obiettivo raggiunto? Obiettivo? Mi devo ancora pesare, però credo di sì. Credo di aver guadagnato qualcosa.